Donald Trump e Kamala Harris si sono affrontati nel primo dibattito TV. Un'ora e tre quarti che potrebbero essere l'unico confronto prima delle presidenziali del 5 novembre. A Filadelfia, martedì sera, la candidata democratica e quello repubblicano hanno affrontato tutti i temi sul tavolo, aborto, economia, immigrazione e le guerre in corso. Guarda cosa sta succedendo nel Medio Oriente. Questo non avrebbe mai avuto. Siamo così sottolata e velocemente e avrò la guerra con l'Ukraine e la Russia che è finita. Se sono presidenziale, avrò fatto prima di essere presidenza. Trump non dovrebbe dire a una donna cosa fare del proprio corpo. Ha attaccato la vicepresidente USA sull'aborto, il cui diritto federale è stato eliminato dalla Corte Suprema nel 2022. L'ex presidente ha contraattaccato sull'economia, poi la guerra in Medio Oriente. L'Israel ha il diritto di difendere. Siamo. E come si fa, si importa. Perché è anche vero, che troppo troppo molti palestiniani inocenti hanno stato morti, i figli, le mamme. Lo che sappiamo è che questa guerra deve finire. Deve finire immediatamente e la forma in cui finire è che abbiamo bisogno di un incontro di incontro e abbiamo bisogno di scontri. Trump ha provato a portare il dibattito sull'immigrazione e Harris sull'impresentabilità del rivale. Il confronto si è concluso ai punti per la democratica che in meno di due mesi ha colmato la distanza nei sondaggi e incassato un miliardo di dollari di donazioni. Ultima tappa del viaggio apostolico di Papa Francesco che conclude il suo tour nel sud-est asiatico e in Oceania, a Singapore. È la seconda volta che un pontefice visita lo Stato, la prima, nell'86, quando Giovanni Paolo II fece una sosta di cinque ore. Papa Bergoglio avrebbe dovuto visitare Singapore, uno degli stati più ricchi al mondo già nel 2020, ma la pandemia da Covid costrinse il Vaticano ad annullare il viaggio. Durante la visita sono previsti degli incontri con il primo ministro e il presidente di Singapore e altri funzionari governativi, ma il momento più significativo sarà la messa, che verrà celebrata allo stadio nazionale che può contenere fino a 55.000 fedeli. Francesco è partito dall'aeroporto di Timor-Est al confine con l'Indonesia, dopo aver incontrato i giovani del paese, che costituiscono la maggioranza della popolazione. Il Papa li ha esortati a lavorare insieme per il futuro della Repubblica e li ha messi in guardia dalle aziende internazionali che vogliono sfruttare il territorio. Durante la sua visita Francesco ha attirato una folla di circa 600.000 persone per una messa da record. Durante il sottur asiatico e il più lungo dei suoi viaggi, finora Francesco ha toccato anche l'Indonesia e la Papua Nuova Guinea. Il Tar Sicilia, accogliendo il ricorso presentato da diverse realtà siciliane di medici accreditati, tra le quali il CIMEST, ha decretato la sospensione della nota del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione. Strategica dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana L'assessore aveva stabilito l'erogazione, da parte dei farmacisti, dei servizi sanitari a carico del sistema sanitario nei locali esterni distaccati dalla farmacia. Questi provvedimenti avrebbero consentito ai farmacisti l'apertura di ambulatori polispecialistici in locali, esterni e distaccati dalla farmacia sulla base del solo previo parere igienico-sanitario dell'ASP competente. La sentenza del Tar Sicilia manda al macero un provvedimento illegittimo. Lo affermano i vertici del CIMEST presidente Salvatore Calvaruso e coordinatori Domenico Garbo e Salvatore Gibino, che esprimono soddisfazione per la decisione assunta dai giudici. Oltre all'aspetto squisitamente medico, Il CIMEST ricorda che le prestazioni sanitarie che le farmacie dei servizi avrebbero potuto erogare per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono esattamente le medesime di quelle erogate dai centri della specialistica ambulatoriale convenzionata. Catania, nel pomeriggio, due gazzelle sono intervenute in zona Viale Mario Rapisardi Alta su richiesta di due genitori 55 anni ormai estremati dalle continue vessazioni procurate dal proprio figlio. Quando i militari sono giunti a ridosso dell'abitazione dei poveri malcapitati, si sono trovati davanti il figlio che furiosamente minacciava di morte madre e padre. I carabinieri sono quindi subito scesi dall'auto di servizio, frapponendosi tra le parti, poiché il giovane, un 34enne del posto, con precedenti di polizia, aveva comunque tentato di aggredire fisicamente i genitori nonostante la presenza dei militari. Il ragazzo è stato immediatamente bloccato e allontanato dai genitori per poi condurlo in caserma nonostante una sua strenua resistenza a suo malgrado. Lo stesso veniva infine condotto presso il comando arma di San Giuseppe Larena, dove giungevano poi anche genitori per sporgere denuncia. Alla presenza dei carabinieri, quest'ultimi hanno raccontato di un vero e proprio calvario, iniziato da circa otto mesi, durante i quali il figlio, ormai ostaggio della droga, era sempre più insistente nelle richieste di denaro. Emerso tutto ciò i carabinieri hanno tratto in arresto il giovane e tradotto presso il carcere di Piazza Lanza. L'altro pomeriggio, una trentenne catanese ha raggiunto una profumeria situata lungo la centralissima via Etnea e ha cominciato ad aggirarsi tra gli scaffali, provando qua e l'alcune essenze, fino a quando non si è soffermata nei pressi dell'espositore di un noto brand parigino. Lo stand era però sorvegliato sia da telecamere di videosorveglianza che dalle impiegate le quali si sono accorte, delle immosse e della cliente. La giovane infatti afferrata la boccetta di una fragranza del valore di mercato di circa 150 euro ha rimosso pian piano l'involucro che conteneva l'antitaccheggio, poi camminando con la bottiglietta in mano, si è avvicinata a un pilastro per far scivolare il profumo all'interno della sua borsa. A quel punto, la ladra è uscita dal negozio convinta di averla fatta franca. La direttrice dell'attività però aveva già chiamato il 112 comunicando il furto in corso. La donna, resasi conto di essere stata scoperta, ha inutilmente tentato di nascondersi in un altro negozio, uscendone dopo alcuni minuti, ad attenderla. Però c'erano i carabinieri ai quali lei in un ultimo tentativo di farla franca ha cercato di sfuggire, nascondendosi addirittura in una vicina chiesa ma è stata infine prontamente bloccata. Acquisite infine le immagini del sistema di videosorveglianza della profumeria l'attaccheggiatrice è stata definitivamente incastrata e denunciata all'autorità giudiziaria per furto aggravato. Un sintomo per tre settimane, tre settimane per uno vital è lo slogan della nuova edizione della Make Sense Campaign, l'iniziativa di sensibilizzazione con visite gratuite contro l'insorgenza dei tumori testa-collo promossa, dall'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica alla quale aderisce anche l'azienda ospedaliero, Universitaria Policlinico Rodolico San Marco. Il 16, 17 e 19 settembre prossimi, al Policlinico Rodolico e al San Marco verranno offerti screening gratuiti mirati alla prevenzione dei tumori, testa-collo. Le visite saranno eseguite dagli specialisti sia dell'Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria diretta, da Ignazio Lamantia, sia dell'Uoci Chirurgia Maxillofacciale diretta da Alberto Bianchi secondo un preciso calendario e fino a disponibilità dei posti. Di seguito i dettagli delle visite. Per il San Marco è necessaria la prenotazione chiamando il numero 095 479 4258 dalle ore 9 alle ore 11 e 30 dal lunedì al venerdì. Per il Policlinico Rodolico martedì 17 e giovedì 19 settembre, non è necessaria la prenotazione. Per informazioni chiamare il numero 095 378 1166, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Per tumore cervicocefalico si intendono tutti i tumori che si sviluppano nell'area della testa e del collo ad esclusione di occhi, orecchie, cervello ed esofago. Questo tipo di tumore tende a colpire maggiormente gli uomini e le persone di età superiore ai 40 anni, ma le diagnosi fra le donne e gli under 40 sono in aumento. Le previsioni meteo di Globus Television per giovedì 12 settembre 2024. Pressione in diminuzione, ma la giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, il cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 33 gradi, valori notturni stazionari. Venti di Libeccio. Mari. Martirreno mosso. Mare Ionio mosso. Stretto di Sicilia molto mosso.